la yurveda è ormai una scienza piuttosto diffusa anche in italia e vale la pena approfondirla perché pur essendo antica e proveniente dall'india è incredibilmente attuale utile e ricca di strategie pratiche per il benessere di ogni giorno se hai a cuore la tua salute quella dei tuoi cari se vuoi impostare uno stile di vita sano e consapevole la yurveda può darti tutte le risposte che cerchi e io le ho raccolte per te nel mio manuale moderno di yurveda leggendo il manuale potrai subito capire e soprattutto mettere in pratica i segreti per il benessere quotidiano per esempio quando scegliere un cibo rispetto a un altro se andare in vacanza al mare oppure in montagna quali rimedi naturali prendere in base alla tua costituzione quale sport è il migliore per te come avere relazioni sempre positive con la yurveda se la salute degli altri è il tuo lavoro il manuale moderno di yurveda sarà per te una nuova ed efficace risorsa professionale sono circa 30 anni che mi occupo di yurveda e ho aiutato migliaia di persone a ritrovare salute e benessere ho formato centinaia di professionisti che hanno adottato il manuale moderno di ayurveda come libro di testo per il loro lavoro per esempio medici fisioterapisti operatori ayurvedici operatori olistici naturopati e anche estetiste nel manuale troverai una chiara esposizione della yurveda la descrizione delle costituzioni fisiche e psicologiche con i consigli per vivere al meglio la tua costituzione senza cercare di essere qualcosa di diverso da te stesso i principi dell'alimentazione ayurvedica con le schede per ogni alimento la cura estetica del viso e di tutto il corpo i consigli per la donna e il bambino le tecniche di depurazione e pancia karma la guida completa per farsi l'auto massaggio la descrizione di come fare meditazione in base alla tua costituzione e tanti altri consigli pratici per vivere meglio il tutto scritto in modo semplice chiaro comprensibile e facile da ricordare ti invito davvero a leggere il libro perché capendo la yurveda e seguendo i suoi consigli ti si aprirà un mondo di positività e salute acquista subito il libro e buona yurveda da parte mia naturalmente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.